Hey now, you're an old star, get your game on, go play... Non sicura, se sei abbastanza fortunato, rimarrai l'ultimo in vita. Già, qualcuno in Giappone ha avuto l'idea così demenziale che si è trasformata in un mocchietto di bigliettoni profumati. Ah, poi si narra di un'altra modalità, ma è solo leggenda. Ci ho giocato? Sì. Mi sono divertito? Beh, sì. Certo, il gioco ha più errori di un cinese che parla qualsiasi altra lingua ed è più monotono del sistema di combattimento di Batman Arkham Knight. Ma c'è il pass battaglia, siiii, guarda quante missioni, devo trovare sette gnomi, finalmente una sfida, un motivo per giocare, oh, come l'ho detto. Avviaziamo! Alto là! Abbiamo aggiunto anche noi le missioni e sono molto meglio di quelle di Fortnite! disse PlayerUnknown mentre lanciava altre settecentoquaranta denunce Epic Games. Ma il peggio del gioco è al di fuori del gioco stesso. Scenario ipotetico mai successo! Vi svegliate la mattina, aprite Instagram e le storie sono intasate di foto di vittorie royale. Fortuna che non sia mai successo! Mi immaginate? Perché posti foto della tua vittoria royale? Non frega un cazzo a nessuno! Dopo tutte quelle partite è successo che per puro caso sei rimasto l'ultimo tarzanello vivo sulla mappa. Che cosa fai? Ah! Ah buono cazzo, mi sento felice, ora posso smetterla di giocare e andare a fare qualcosa di produttivo. DEVOLO SAPERNO TUTTI! So che le storie sui social media sono fatte apposta per postare stronzate che la gente salta senza nemmeno fare attenzione perché ormai va di moda a farsi i cazzi degli altri. Ma c'è gente che come storia emette qualcosa di piacevole, interessante, addirittura di impressionante. Anche se in effetti se ti abbassi a postare una vittoria royale non hai speranza di fare qualsiasi cosa utile con la tua vita. Ma ehi tu ragazzino, vuoi sapere una cosa divertente? PORNO. TANTO TANTO PORNO. Regola 34 di internet, se esiste, esiste anche la versione porno, niente eccezioni. Ma il laboratorio di Dexter? Ma il comando nuovi diavoli? Ma il presidente americano Donald Trump? CHINA! E Fortnite non si salva. La quantità di porno su Fortnite è quasi impressionante. Guardate questa per esempio... Oh mio... Mio Dio. Ma andiamo a leggere i commenti. Oh, quanto mi scoprirei Zoe. Io lascerei che Zoe mi scopi. Ma ehi, ha ognuno i suoi gusti. Non mi dispiace che incontri... Ok, prossima immagine. Questa ho dovuto censurarla per ovvi motivi, ma ve lo descrivo. C'è un tipo vestito da coniglio rosa che sta scopando la tipa coniglio da Fortnite. Tutto questo mentre si appoggiano sull'ama... No, questo è troppo. Sapete, giocate a Fortnite quanto mi pare. Io non ho intenzione di farmi un'altra partita sapendo che tra 100 giocatori nella mia lobby qualcuno si masturba su sta roba. Ragazzi, so che vi siete stufati di sentire la mia voce, ma... C'è un'ultima cosa di cui vorrei parlarvi. Perché cazzo se non pubblico video raggiungo i 700 iscritti in pochi giorni? Sapete... Vabbè, niente. Lasciamo stare. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, commentate... E magari iscrivetevi. Qui da Sandoimastronota è tutto e noi ci becchiamo nel prossimo video. A presto! Grazie a tutti.